raga modi da giambo nuovo episodio oggi non porteremo non registrerò man ben due perché tanto io c'ho già visto il registrato ragazzi il video pre-registrato scusate un secondo boh perché sono non riesco a parlare e raga questo ho preso una bottiglia vuota che ha dovuto oggi mi ha fatto finta però ragazzi oggi porteremo gta ma io farò un pezzo di storia un po giocherò io così scialla così per divertimento per portare un video un po più diverso dal solito mountain 2 ragazzi ve lo dico uscirà ogni sera alle 6 alle 6 punto 6 e mezza 6 comunque uscirà sempre verso le 6 e intanto nell'altro momento porterò altri video mo che ricomincerò a lavorare mi gestirò un po la situazione come va va però alle 6 riuscirà sempre mountain 2 dunque vi lascio gameplay di cda bella ciao bella raga saturnali su cd al libri city store io raga scusate cerco l'attimo di sistemare quel cavalletto come dobbiamo sistemarlo bene abbiamo sistemato rega questo pezzo lo scriviamo tanto non ci interessa io voglio fare solo i gameplay con voi una fine faremo gameplay rega io qua e dico la verità c'ho i trucchi per le armi trucchi per la vita cioè i trucchi per tante cose ok promoggi vedremo se magari utilizzare qualche trucco per non morire immediatamente subito anzi che vi dico attiverò subito il trucco usiamo arrivati su un bullman molto bello rega vabbè ragazzi questa parte la scriviamo su perché arriva per spiegare talmente verso pull ma andiamo dal tipo dobbiamo portare tipo dal suo rifugio segreto lui ci porta qui ci porta alla però alla fine ce la facciamo vabbè rega qua ci ha spiegato un po il coso del filo scuola dovevamo portare il figlio da qualche parte poi non lo so dove dobbiamo andare ma lo scopriremo perché io ho sempre saltato la storia ho fatto mi divertivo a sparare la gente ammazzare la gente ea divertirmi ma ragazzi facciamo subito aspettate che devo leggere bene 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 qua il trucco delle armi aspettate aspettate che non capisco ragazzi che non ci vedo bene sono il buio e no niente rega aspettate due secondi due secondi poi riprendo il video eh eccomo ragazzi avevo sbagliato gta perché avevo uscito i trucchi dell'altro gta e bella lì ho sbagliato ora accompagniamo sto tizio dove deve andare good price allora dov'è che dobbiamo andare sto tizio aspettate c'è lì boh si lui ha fatti fuori al diavolo beva timoto va papà eh questo che cazzo ci fa l'altro ficcata lì rega non devo morire dunque se questo cosa si vabbè andò ragazzi qua non posso essere arrestato dunque alla fine posso anche ammazzare qualcuno ma zio prete o è grande come un muro quell'entrata non lo becca neanche se sono proprio negato a centrare buchi su gta lo dico dobbiamo andare qua che è il nostro rifugio dove salveremo tutte le auto tutti i nostri progressi e dove ci potremmo cambiare praticamente lui che ci regala la casa lui ci regalerà la casa comunque bella lì mi paghi pure l'affitto la luce grazie di paghi tutto e paghi tutto così io non devo stare a perderci tempo pagare l'affitto l'affitto del cazzo buona ragazzi che facciamo così ok così c'è il mirino sì ma anche se vai vicino alla finestra mi fa piacere non si fa largare vabbò ah salaga con quadrada bene la vecchia è morta eh eh ciao vecchia ci cambiamo d'abito venga se sei brutto mettiamoci la pistola va riferisco tenermi la pistola che è molto meglio ragazzi se volete altri video magari dove gioco a dei videogiochi con mia sorella qui ragazzi il nostro crash potremmo metterci le nostre armi tutto quanto allora bella ragazzi ho tornato mi sono andato a prendere un caffè mi sono anche cambiato perché così ho preso caffè oggi ho lavorato fuori sono andato a prendere il caffè cazzo mi suoi i mongologi guarda che dispara guardate ragazzi questi li odio no non ci prova bella rega dobbiamo andare a portare questo figlio di uta al suo posto e penso che c'è da andare giù di là siamo a portland e qua ragazzi c'è molta gente che ci odia portland cazzo ti quasi distrutto l'auto porca puttana ragazzi non deve morire sto tizio sto tizio deve sopravvivere oh 35 dollari bella lì ragazzi si guadagna il saldo e cash no esci da qua esci da qua esci da qua che ci ammazzano questi vedi a mettere le pole vai beh ragazzi ho la macchina mezza morta ecco guardate se resistere a guardare il gioco ragazzi è impossibile sto gameplay però ragazzi le porto stesse sul canale allora qua frena eh come se frena boh vabbè guardate che siamo arrivati missione completata a 100 dollari ok scendiamo dall'auto mi sta su cazzo esci dall'auto ragazzi oggi andiamo avanti con un po' di missione bella questo l'ho fatto fuori con la glock andiamo il pigro secondo me dovremmo andare a prendere se non mi ricordo male uno spacciatore però seguiamo la storia ok ok andiamo a prendere uno stronzo da quello che ho capito che è un figlio di puttana come dice lui allora dobbiamo cercarci una macchina però abbiamo la moto qua dunque ci prendiamo la moto ragazzi le moto su gta proprio le odio perché sono fatti in modo esticamente che addio ti devi levare mi scordo sempre come se frena ma porca troia piglia sta in moto ti devi levare dalle palle tra te che ho ferito pure i colpi meh 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 ragazzi su gta vi dico che non so guidare dunque non mi insultate per come guido perché non so proprio guidare ma cazzo devo andare a piedi a sto tizio e spostati ma come si frena su ah con l1 e dimmelo prima che si frena con l1 mi sono scordato ti do un peggio che non ci gioco ragazzi scusate ma che tu il palle ma sei bravato in mezzo e ci sta comunque ragazzi scusate per la grafica ma ragazzi è gta2 su playstation 2 non è che sto portando non è che è su playstation 4 è playstation 2 perché non voglio portare gli stessi giochi raga io c'ho tutte le playstation dove sta il tizio tizio vabbò lascia la moto qua andiamo a piedi tanto il tizio sta qua raga sentiamo che il volume comunque si alza un po' il volume però comunque leggete sotto si legge abbastanza bene dobbiamo portarlo dall'altra parte lui non ho finito il puttana era da ammazzare andiamo raga prendiamoci la moto di questo dispiace tizio andiamo va devo portarlo dall'altra stessa e che palle ma sei bravato in mezzo ci sta questa è più bella come musica più easy ma porca troia ma io non dico oh sta puttana che ci fa qua fanculo eh oh scusa amico bro non dovevi guardare però è la tua sorella lo so lo so che è la tua sorella bro ma questo è salito non c'è eh si sa si questo sale al volo questo è Tarzan è Tarzan sure sure ma perché ma ragazzi sta moto non frena non frena raga poi ci pigliamo un'auto perché qua non dovevi ammazzare il tipo ma porca troia fanculo no raga non mi switch arma no eh sono morto ragazzi sono morto come un pirla perché sono morto come un pirla ragazzi non mi switchava arma cioè boh si era buggato il gioco vabbè ragazzi ma adesso comunque siamo quasi alla fine del video che vi faccio qualche partitella easy aspetta io non voglio il taxi non voglio ah si ci porto il taxi da Vincenzo però io ragazzi moro e attivo i trucchi un secondo raga sto barando che devo fa' raga questo ci dice ti porto da Vincenzo si ti porto pure io da Vincenzo no sono un pirla lanciato a granada qua se cos'è si fa ragazzi un chiamicchiazza è proprio all'esis ragazzi praticamente vi sono fatto saltare in area aspettate li attivo subito i trucchi su aspettate ragazzi fatto li attivati i trucchi bene facciamoci qualche buoni tizio ecco ma sta arrivando la pulizia ecco fa' vero eh lo sbiron ti voleva ammazzare però tu mi stai rompendo le palle tu muori tu muori che sta arrivando la pulizia grazie se questo lo rianimo è una pallotto l'è già praticamente vivo ma ragazzi arriva la pulizia meglio sluggersela per un po' cazzo no prendi questa stella vabbè ragazzi asciuta la stella non mi interessa lascia andare la moto va ai piedi ragazzi però non mi ricordo come si corre ah si corre con la x ho capito ok non mi ricordo merda arriva la pulizia arriva la pul arriva la pul arriva la pul la pul la bus scusa tizio no io voglio metraglietta scusa sbirro ma non ti volevo uccidere ragazzi dobbiamo resistere più tempo agli sbirri ok no io voglio la minica voglio la minica ragazzi troppo bello io mi diverto così ragazzi faccio fare i tipi mi faccio come devo fare no ho sbagliato sbagliato e mo questi mi sparano porca troia scusa tizia no sono proprio un pirla buttata ma da lì ok tu muori grazie porca c'è pure l'elicottero ragazzi che cazzo venite qua io sto sparando a random prendi sti soldi comunque mi servono dopo per continuare il gameplay rega comunque se volete altri video di GTA basta che me lo scrivete nei commenti ragazzi supportate questo video tantissimo e io ve lo continuo a portare sul canale io problemi non ne ho ragazzi che io comunque i video ve li porto sempre sul canale sti sbirri di merda no cazzo vai via scusa sbirro scusa sbirro scusa sbirro vai vai di granate putta queste granate vai no sono proprio un pirla sono proprio un pirla ragazzi sono proprio un fottuto pirla ragazzi sono proprio un pirla vabbè ragazzi ragazzi se era un attimo impallato io ho usato i trucchi per questa partita cioè vi spiego ho usato i trucchi ma non perché io vado sul cta io l'ho fatto per portare un contenuto perché io il cta se lo volete sul canale ragazzi basta che mi lasciate un pollicione lì su è un supporto per vedere questo video va io ho altri video ve li porto sul canale gta non ho nessun problema vabbè ragazzi spero che questo vi sia piaciuto se è così un pollicione ragazzi saluto da jambo ciao